Maltempo assassino in Gran Bretagna. Ecco come appariva la vettura travolta da un pezzo di cornicione a Londra. La guidatrice era una donna, uccisa da questo gigantesco frammento, morta in seguito alle ferite riportate. Diverse le vittime e ancora di più le persone che sono state tratte in salvo a causa della terribile ondata di maltempo che ha travolto il Regno Unito. Decine di migliaia quelle spollate, anche e soprattutto per le esondazioni dei fiumi. Il rischio che anche il Tamigi a Londra fuoriuscisse dagli argini sembra almeno per ora scampato. Le precipitazioni e le tempeste non hanno risparmiato nemmeno la Francia, soprattutto le regioni più occidentali del paese, che si affacciano sull'oceano atlantico. Fra venerdì e sabato decine di migliaia di case erano senza energia elettrica e le condizioni di relativa normalità sono tornate solo nel pomeriggio di questo sabato. Interrotti o resi estremamente difficoltosi anche i collegamenti aerei e ferroviari. La Bretagna è stata una delle regioni più colpite, da venti che hanno raggiunto anche i 250 km orari. Ecco come apparivano alcune località della regione dopo il passaggio della tempesta Ulla, che ha ricoperto di schiuma marina la costa. Una schiuma che arrivava spesso alle ginocchia degli abitanti, uno spettacolo inusuale persino da queste parti.